non è per l'uso non è stato pazzi a molti molti mesi a un mare mare non si muove la festa di un nuovo bucchino e di investimento di obiettivi e non è buono il giugno il giugno mi son fatto un quarto piccola così per informarmi buoni ce la faccio a farle anche zola e non mettiamo un hub vabbè che finiscono perchè muo' la break non li sa fare è teletrasporto mi raccomando si ma break pensa che ha fatto non è nemmeno formato il mio frutto bucconi buoni vendi a gara già abbiamo finito leone lega qualche sono basse dovete tenere uno spazio per le non da d'urto con il bombarolo ma mi sa che no è vero mette energetica nulla mattino che ha fatto mette energetica se non ho non ammazzate in mini qui da me o qui da me è buona ragazze e pendilo te a black no 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 black basta che lo iti te lo conta qui da me c'è un altro cittadini l'ultimo l'ultimo mattino e di me ne ho portato un uomo la fatta monolite a borne sono molto io voglio un po' di bloccato in mini dittà che l'unico bozzogine ha visto ti stanno un po' di bloccando no, troppo tempo su vengono anche le monete a terra buono, buono le monete ma perchè boni nell'energetica c'è le palle di neve con totalmente rock ma come è totalmente rock no, fra, mi apri la porta, ferma, non apri la porta fra ma ma l'ho preferito ma l'ho preferito ma l'ho preferito ma l'ho preferito perchè pericolo tutte cose particolari leggermente leggerna non si devono salle abitare l'ora un bel giorno 15 dc tutto supporto non non mi ha detto fate questi due fate questi due modi dove questo è quello dietro e prendere che amico lo dietro xx aramati chiamo sette minuti mai faccio il video non ho anche beck non mette la pistola e chi dice un calcio no ma ti reattiva mettere tanto mi canceva da seconda 4 3 c 5 3 10 5 20 in cerca che cazzo matti comunque capito il fatto di listino è stato assoluto del live mi ha bannato no ed è in pace aveva visto come black black non era in pace non è un modo di chiedere guerra se volevo di chiedere da guardare chiamavo i fratelli dell'arco cani stanno bonnie vengo a filippo finito cambiamo la vita.com il centro da settimana non dovete insultare altri team ragazzi già avevo detto no ma l'ho fatto da un studio ho fatto una battuta sugli hg dove fatti cazzo gli hg sono percati di scena dalla lobby no semplicemente rega ognuno può fare il cazzo che vuole degli altri team però noi dobbiamo essere l'esempio quindi anche se anche se ci insultano ragazzi non dobbiamo rispondere sono morti sono morto si vengono c'è anche se le se loro ci insultano no no non dobbiamo rispondere non dobbiamo rispondere non è che sono fatti scegliere siamo più mature di loro perché dovremmo rispondere a me non siamo come napoli ah oh mucca puttani mamma dove la mando va mucca usano di chiedermu ma sai te vengono di chiedermu Figa! Vuoi perchè sapete dire solo figa? Oh Black, sai quale è la cosa più bella? Lo usano dire solo figa Usano come dice solo moccate molto Mi fai un'ape? Figa mi fai un'ape figa? Matti figa mi fai un'ape? Matti figa mi fai un'ape?